E' proprio il caso questa sera di dire buonasera a tutti i spagnoli e nonne, eccoci qua! Siamo così gentili che non solo vi lasciamo tifare liberamente, ma vi abbiamo anche portato il nostro chef che cucinerà dei piatti spagnoli. Che ci cucinerà? Sono sta buoni però, perché se no ci metto i pecorini. No, 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 no. Inizio a leggere questa formazione, che l'altra volta mi dicono di aver letto male, quindi stiamo così. E questa è la linea difensiva, cioè questa è l'Italia schierata in linea difensiva. Quando a un certo punto si deve difendere a U, a fiore, a tortora, a 5, a 4. Questa puntata è bella, frizzante, croccantina. No, ragazzi, 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 ma che ce frega! Andiamo a diventare a figare! Ma che ce frega, sapete come ci consoliamo noi italiani? Mangiando! Andiamo tutti da Maxi Mariano! Grazie! 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 Grazie a tutti.